Tutti noi a Sassari, come in tutto il mondo, in quest'ultimo lungo periodo abbiamo dovuto affrontare e risolvere numerosi problemi legati alla pandemia, che ha causato conseguenze catastrofiche sul piano sanitario, economico, sociale e politico. Nessuno però può accantonare la crisi climatica in cui stiamo vivendo e che richiede da parte nostra particolare attenzione e impegno continuo per portare soluzioni concrete prima che arrivino troppo tardi i rimedi che possano migliorare le cose. Fino a pochi anni fa, infatti, erano i modelli matematici a prevedere che il clima del pianeta stava cambiando e alcuni governi e pochissimi esponenti del mondo scientifico mostravano interesse, mentre la maggior parte manifestava sceticismo. Oggi siamo di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi, frequenti e devastanti. Molte specie stanno reagendo al cambiamento, alcuni uccelli migratori stanno cambiando le date di arrivo e di partenza anno dopo anno, le fioriture stanno anticipando, le specie montane si spingono finché possono in alta quota, ci troviamo di fronte a importanti mutazioni nel clima del pianeta e di cui siamo tutti responsabili. La crisi climatica è ormai un dato di fatto a causa dell'aumento dei gas serra emessi nell'atmosfera, l'anidride carbonica è aumentata del 147%, il metano del 259%, il protossido di azoto del 123% rispetto ai livelli preindustriali. Questi cambiamenti rendono sempre più frequenti i fenomeni di inondazione, siccità, dissesto idrologico, diffusione di malattie, crisi dei sistemi agricoli, crisi idrica, estinzione di specie oltre all'aumento della temperatura, il graduale scioglimento dei ghiacciai e il rischio di sommersione delle terre e in modo particolare delle isole, cosa che purtroppo ci coinvolge direttamente. Ognuno di noi si deve sentire coinvolto nella lotta ai cambiamenti climatici, il risparmio dell'energia è uno dei primi passi, non basta infatti che i governi e le nazioni attuino programmi di riconversione della produzione energetica, abbandonando progressivamente combustibili fossili verso le fonti energetiche rinnovabili. Puntare sull'efficienza del risparmio energetico è fondamentale e su questi punti il ruolo di ognuno di noi è cruciale. Tutti possiamo fare concretamente qualcosa per il clima, riducendo gli sprechi energetici, riciclando e riutilizzando, usando meno acqua calda, consumando meno carne e se ne abbiamo la possibilità installando un impianto a energia rinnovabile, usare meno l'automobile. Non soltanto belle parole, ma occorrono fatti se non vogliamo assistere passivamente alla distruzione del nostro pianeta. Non sarà molto, ma si sta cercando qualche rimedio e anche muoversi a piedi, in bicicletta, sul monopattino, in caso di necessità con le macchine elettriche, può servire sicuramente anche i sassaresi, prendono atto delle loro possibilità e come sempre faranno il possibile per arginare il pauroso problema dell'inquinamento per combattere insieme la crisi climatica.